Un amico è... Remare in una gara infinita. Io ho un remo a destra e lui ho un remo a sinistra. Marco c'è sempre stato. Quando mi hanno diagnosticato un tumore... Ero consapevole che sarei potuto morire. È giusto anche sapere che molte persone poi ce la fanno. Quindi donare, donare, donare. Uniti, forti. AIRC. Tu con noi contro il cancro, con il tuo 5 per 1000. Ferma anche tu per la Fondazione AIRC. Grazie.